Quanto è il suo salario? 18 franchi l'ora. Non mi lamenta. Non si lamenta, è vero, ma sta sotto il salario minimo di cui si sta discutendo dopo un referendum qui in Ticino, Svizzera. Si parla di circa 17 euro l'ora, 19,25 franchi. 19,25 è l'ora di cena, 19,25 non è un salario. Qui infatti il sindacato chiede un salario minimo di 4.000 franchi al mese, più di 3.500 euro. Un salario minimo di 4.000 franchi non è assolutamente un lusso, anzi. Qua purtroppo la vita è più cara, cioè io vedo dal pane, dal latte, il caffè. Il caffè qua ci vuole 2,50 euro, 3 euro. Ma anche per chi ha uno stipendio netto di oltre 5.000 euro al mese, qui le cose non sono poi così facili. Questo netto è tale per un giorno, perché il giorno successivo c'è già l'addebito diretto di assicurazione malattia. E per una famiglia di 4 persone, sono di 1.500 più 300, quindi sono 1.700 franchi. 1.400 euro al mese di assistenza sanitaria. 39,90. 35 euro per una pomata. Io penso che in una farmacia a Como, Varese, costi la metà. Fette biscottate, sweetbuck, svizzere, svizzere. Costa almeno 4 franchi questo. Falco di fette biscottate, 3,50 euro. È Gruyère, Svizzera, 21,50 franchi al chilo. 19 euro al chilo. Praticamente come il grano, ma non è grano. Andiamo!